Gentili telespettatori, buona giornata. Il governo tira dritto. Reddito di cittadinanza andrà solo a chi non può effettivamente, oggettivamente non lavorare. Tutti quelli che sono in possibilità, possono lavorare, verrà tolto il reddito di cittadinanza. Si parla di quasi 700.000 persone, quindi 700.000 possiamo affermare nuclei familiari. Solo coloro che non sono in grado di lavorare manterranno il sussidio grillino. Intende rivedere questa misura di contrasto alla povertà che in realtà non l'ha contrastata, che è in vigore da aprile 2019. Il numero di beneficiari verrà drasticamente ridotto. Durante la fiducia, il discorso della Meloni in Parlamento ribadisce quello che aveva detto in campagna elettorale. Questa misura, come è stata pensata, ha rappresentato una sconfitta per chi era in grado di fare la sua parte per l'Italia. Si manterrà laddove possibile aumentare il doveroso sostegno economico per i soggetti effettivamente fragili, non in condizioni di lavorare. Ma per gli altri la soluzione non è il reddito di cittadinanza, ma il lavoro. Quel lavoro sottopagato che c'è in Italia, quel lavoro che rende poveri, che purtroppo un quinto degli italiani prova tutti i giorni. Quei 4-5 milioni di italiani che guadagnano meno di 1.000 euro al mese, quello che possiamo chiamare schiavitù e sfruttamento del lavoro. Quindi dal reddito di cittadinanza 700.000 italiani o quasi parlano, c'è chi parla di 900.000, dovranno passare dal divano con la paghetta dello Stato allo sfruttamento e alla povertà lavorativa. Quindi passeranno da una povertà mantenuta dallo Stato a una povertà andando a lavorare. Il vice premier Salvini propone di sospendere per sei mesi la misura, ma è una sciocchezza. Beh, allora, vuole utilizzare, sospendendo per sei mesi, un miliardo per prorogare quota 102 nel 2023. Secondo i calcoli dell'Inps, serve realmente un miliardo o poco più per prorogare quota 102. Si parla intanto di sospendere il reddito a tutti quelli che hanno raggiunto i 18 mesi. Quindi non probabilmente che dal prossimo mese a Natale un milione di percettori a spasso, ma probabilmente dice finisci i tuoi 18 mesi e lì non lo puoi più rinnovare. L'idea è quella che nessuno può più chiedere il reddito di cittadinanza se è in età lavorativa e se può lavorare, mentre quelli che lo percepiscono potrebbero arrivare fino a 18 mesi e poi non ci sarà più il rinnovo. Quindi è un reddito che non verrà probabilmente tolto immediatamente il prossimo mese, ma verrà, andrà diciamo a scadere. Tu sei al decimo mese, hai ancora 8 mesi di reddito, tieni presente che fra 8 mesi non lo prendi più. Chi magari è a 17 mesi c'è ancora un mese? Ecco, non ci sarà più nessun tipo di rinnovo, non una sospensione come dice Salvini per sei mesi, ma una fine definitiva. Ma quanti sono davvero quelli che hanno il reddito e che possono realmente lavorare? ANPAL lo dice ai primi di ottobre. Secondo i dati di questa Agenzia Nazionale per le politiche attive, i beneficiari del reddito di cittadinanza indirizzati ai servizi per il lavoro sono 919.916. Questa cifra però va tolto 173.000 che risultano già occupati e vanno tolti 86.000 che sono esonerati o esclusi o rinviati ai servizi sociali. Rimangono quindi 660.000 tenuti alla sottoscrizione del patto per il lavoro e sono questi a quelli a cui verrà tolto probabilmente col meccanismo che vi raccontavo prima io. Diciamo che si tratta di individui che complessivamente esprimono alcuna fragilità, quelli che rispetto al bagaglio con cui si affacciano ai percorsi di accompagnamento al lavoro e nel 70% dei casi hanno conseguito al massimo il titolo della scuola secondaria inferiore, in precisa la nota. Si tratta di 480.000 persone che non hanno avuto un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato negli ultimi tre anni. Quindi una gran parte di quei 660.000 beneficiari attuali sono persone con un titolo di scuola secondaria inferiore e che negli ultimi tre anni non hanno lavorato perché esprimono complessivamente alcune fragilità. Ecco, solo il 2,8% presenta titoli di livello terziario mentre un quarto ha un diploma di scuola secondaria superiore. Trovare un sbocco professionale per queste persone non è né immediato né scontato, però l'idea del governo è quella che tutti gli italiani dalla nascita della Repubblica si sono sempre trovati un lavoro, indipendentemente dai titoli di studio eccetera eccetera, quindi si ritorna a prima del 2019 dove dalla nascita della Repubblica fino al 2019 le persone si sono sempre date da fare per trovarsi un lavoro come ho fatto per esempio io sempre, nel senso come credo che abbiate fatto voi la maggior parte sempre. Ci si alza la mattina, si cerca il lavoro, si spediscono curriculum, si inviano email, si sente, si vede, si va in comune. Insomma, quello che abbiamo fatto sempre tutti fino al 2019 è quella di cercarsi un lavoro. Non si può pensare che lo Stato ti possa mantenere a vita perché non si sa esattamente il perché. Ecco, purtroppo quello che hanno fatto i grillini è di far percepire che il reddito di cittadinanza sia una cosa costituzionale che lo Stato ti deve dare e non ti può togliere, ma è sbagliatissimo, è sbagliatissimo. Arrivederci a tutti e grazie.